Possiamo dire che una volta tanto il popolo ha scelto, caro Parenzo, una volta tanto il popolo ha scelto, ha scelto il Cicalone, mi dispiace per te, una volta tanto il popolo ha scelto, non esiste la milizia del Cicalone, il Cicalone domani sarà all'aria che tira e spiegherà tutto. No, benissimo, benissimo, inesclusiva, ma quale esclusiva che deve fare dappertutto, ma che cazzo dici, quale esclusiva, inesclusiva assoluta, ma quale esclusiva, dove l'hai visto, inesclusiva, nelle televisioni mainstream no, domani è inesclusiva, ma quale esclusiva, non c'è nessuna esclusiva, se lo chiamo la sera la zanzara viene la zanzara, l'incoglionito, quale esclusiva, ma non c'è nessuna esclusiva, ma la mattina non c'è nessuna trasmissione, e io scrivo sopra, è esclusiva, è una roba veramente pazzesca, è pazzesca, diciamo dalla proposta del Gasparrone, il Gasparrone hanno una loro storia, io parlo dal punto di vista politico, io di vestire faccio il giornalista politico, nelle mie trasmissioni non si urla, non c'è mai, c'è sempre un racconto molto politico, lineare, strutturato. Fermo lì, giù un attimo Roma, allora, ovviamente copiando da questa trasmissione, oggi hai ospitato, ma l'avevi già annunciato, il Cicalone, il studio a Roma, allora, il Cicalone. Anche lì, c'è modo e modo per parlare di questi termini, c'è lo stile della zanzara, l'hai circondato, l'hai circondato, lo hai circondato di critiche, ma quello se ne sbatte i coglioni, a un certo punto dice, noi filmiamo i soliti borseggiatori che continuano in perterriti, sentiamo, sentiamo il Cicalone. Noi andiamo in metropolitana, misuriamo quello che è la situazione metropolitana, filmando lì dove ci sono i soliti borseggiatori che continuano in perterriti. Sì, ormai li conosciamo, li salutiamo, il problema è questo, è che se ha rubato un'ora prima, un quarto d'ora prima, venti minuti prima, eccetera, e continuerà a rubare, la mia preoccupazione è quella di dirgli, ma non ti sei stufato di rubare, cioè non hai sulla coscienza magari una signora che giustamente è caduta, si è fatta male, è tornata a casa piangendo, il turista che magari torna senza documenti o inizia vacanza sta senza soldi. Di fronte alla logica inoppugnabile, inattaccabile del Cicalone, siete tutti spiazzati, voi da sinistra, la studio alla 7, c'era Caporale, c'era una donna che non so chi fosse, un ospite là. Dei 5 Stelle, deputata dei 5 Stelle che appoggiava Cicalone, ma che trasmissione hai visto? C'era il tuo amichetto Dragoni, c'era il tuo amichetto Dragoni. Di fronte a questa logica inattaccabile, in cui si dice, noi andiamo a rompere il cazzo e i borseggiatori, vi siete attaccati a un frammento di immagini in cui Cicalone prende voi, voi i perbenisti, voi che pensate che non ci si possa fare giustizia. Posso dire una cosa, il Cicalone, quando prende dal collo le persone, fa benissimo, quando è successo che ha preso per il collo dei borseggiatori di merda. Io ho voluto far vedere al pubblico. Sentiamo tutto, sentiamo tutto, sentiamo tutto. Tu non l'hai fatto vedere. Ma vaffanculo. Io sono un cittadino comune che filma tutto. Però è anche un buon furbetto alla fine. Beh, l'astuzia serve sempre nella vita. Mentre la mia operatrice, Evelina, sta facendo la ripresa, quel ragazzo piccolino è riuscito a passare noi, ha colpito la fotocamera e l'ha rotta e ha colpito ovviamente l'operatrice. Io davanti a un crimine del genere, c'è un'aggressione a tutti gli effetti, lo volevamo bloccare. Lui scappava in treno, non riusciamo a fermarla, a un certo punto io l'ho bloccato per il collo, con la classica presa che fanno le forze e l'ordine di tutto il mondo. Si chiama Mataleao. Mataleao. E poi ti sei fatto fare, chissà perché te lo sei fatto fare in studio questa roba qua, solo per lo show, solo per lo show, solo per l'asticella, solo per l'asticella dello share, come tutti. Poi fai il moralista, come tutti, solo per vedere, dai che funziona, dai che si alza e che funziona. Volevo testare con il mio corpo cosa vuol dire quella cosa ed effettivamente stava per strozzarmi, è molto pericoloso quello che fai. Ma per avere odie, ma non so. Guardi, mi sottopongo, mi faccio l'apprendimento. Questa è il Mataleao. Stringi, stringi. Ho capito però, io lo faccio a Fulvio. Stringi, stringi. Faccio fare all'assistente di studio, facciamo il Mataleao anche all'assistente di studio. Praticamente questa tecnica blocca, qui sotto blocca la testa e fa questo. Attento che quello è un tennista di primo livello. Questa mossa qua, che è quella che sono autorizzati a fare le mosse, i poliziotti, no? In realtà non sono autorizzati a farla. Questa è una tecnica di arti marziali. Ho capito, ma hai rischi di soffocare una persona. Se uno vuole può far svenire la persona, cosa che io non ho fatto per esempio. Ma capito, ma lei non è un funzionario, non è un poliziotto, cicalone. Secondo la legge, davanti a un reato, il privato cittadino può arrestare o bloccare l'aggressore in attesa delle forze. Ci sente lei una responsabilità di incitare anche alla violenza, alla difesa privata? Guardate, io non ho mai usato violenza se non nel momento in cui ho dovuto difendere una persona a me cara, come in questo caso. Io in questo caso ho tenuto per il collo sto ragazzo perché ho difeso una persona a me cara, ho spinto una ragazza perché stava colpendo una persona a me cara. Cioè, con questo semplice ragionamento, un uomo della strada, un ex pugile, ve l'ha messo in quel posto, ve l'ha messo nel culo, come si direbbe qui alla zanzara. Capito qual è il punto? Perché voi non avete argomenti di fronte a questo, perché dite, eh, deve intervenire la polizia, ci sono le forze dell'ordine e non ci sono le forze dell'ordine. Non ci sono. Ed è giusto che gruppi di signori, certo, gruppi di signori armati di telecamere e ogni tanto armati di muscoli, io non ce la farei per esempio, non sono muscoloso, sono magro ma non sono muscoloso, quelli sono grossi e hanno anche i muscoli. Si avvicinano ai borseggiatori, li prendono, li immobilizzano, li terrorizzano, bisogna far terrorizzare i borseggiatori perché voi non andate in metropolitana, questo è il punto, tu non vai in metropolitana. Dovresti, questo è quello che dice, che dice Dragoni in modo assolutamente attesivo. No, tu non vai in metropolitana, non la frequenti, una volta che ti ho chiesto di venire nelle nazioni in metropolitana, hai detto che ti facevano schifo i poveri, che c'era troppo puzza, come no? Ma per carità, ma per carità, ma non mi permetterei mai. No, 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 dovresti chiedere i diritti perché stanno facendo la trasmissione con tutte le cose rubate dall'aria che tira, mi scrivono. Ti devo chiedere io i diritti di aver portato Cicalone in studio che manco se mi bichiera fino a cinque giorni fa di portarci tua, fermo là. Ma perché scusami, Cicalone cos'è, un'esclusiva tua? Cosa sei, l'agente di Cicalone? Fermo là, fermo, fermo là. Mi pare una puntanata. Sgarbi su Cicalone, vai, come un supplente dello Stato, questa è una bella cosa. Quelli che fanno lo Stato sono lo Stato anche loro, perché difendono, quindi questa funzione di supplenza è il modo con cui persone come il Cicalone contribuiscono a fare quello che lo Stato dovrebbe fare, darsi una garanzia di vita. Cioè, capite, tu imbastisci trasmissioni in cui dicono le stesse cose tutti, di quello supplente dello Stato, eccetera, sul nulla assoluto. Cioè, è supplenza dello Stato oppure è violenza. Questa è la cosa. E fai discutere a sette persone per venticinque minuti sul nulla assoluto e poi parli di me. Ma vaffanculo, va, è una cosa pazzesca, dai, è una cosa incredibile. È una cosa incredibile. Ma non capito cos'è la cosa pazzesca? Non riesco a capire, scusami. È una cosa pazzesca, pazzesca. Ma cos'è che ti disturba così tanto? È una cosa pazzesca. Il fatto che proviamo a richiamare ai principi, ai valori della Costituzione, ai valori... Ma qual è la Costituzione di che? Ma quale Costituzione di che cosa? Dai, quale Costituzione di che cosa? Grazie, Emiliano da Torino. Ciao, Emiliano, dimmi. Ciao, Gretino. Dimmi. Allora, il fatto che Cicalone faccia quello che fa è una vergogna fuori da ogni limite. Perché qua andiamo... Vallo a denunciare? No, no, perché qui c'è violazione dei diritti. Vallo a denunciare. C'è il stagione della violenza dei cittadini. Vallo a denunciare. C'è una responsabilità legale. Vallo a denunciare. Vallo a denunciare. C'è erosione della fiducia contro le istituzioni. Perché se tutti facciamo il cazzo che vogliamo, credino che non siamo altri... Non mi pare che tu te la prenda con i borseggiatori. Non mi pare che tu sei indignato per i borseggiatori. No, non sei indignato per i borseggiatori. Se i cittadini intraprendono la legge nelle proprie mani... Qualcuno che tenta di strozzare un borseggiatore, non è meno tenta di strozzare perché abbiamo sentito che tenta di bloccare un borseggiatore oppure... Ma nessuno prende la legge. Mi fai parlare o no, cretino? Stanno terrorizzando, stanno terrorizzando i borseggiatori. Va benissimo, va benissimo così. La fiducia nel pubblico e nelle forze dell'ordine viene meno. Ma quella... Tutti facciano il cazzo che vogliono. Ma nessuno fa il cazzo. Ma ancora un'altra cosa, cretino che non sei altro. Ma non è tanto dei comunisti. Che c'entrano i comunisti? 45 anni di democrazia... Perché parlano sempre di destra e sinistra. Però mi dovete dire, i comunisti quando sono stati in Italia, sono stati 20 anni di fascismo. 45 anni di fascismo. Ciao, Ale da Faenza, Ale da Faenza. Io volevo invitare gli amici bolognesi...